Cossigliere Simone Baggioli, parliamo del progetto delle crociere a Sanremo dopo gli arrivi dello scorso anno. Ecco, avete già un programma futuro? Abbiamo già un calendario con il primo arrivo il 24 di aprile e la fine della stagione invernale preventivata per fine ottobre. Quindi la stagione si è allungata, possibilità di maggiori arrivi nella nostra città e di conseguenza più turismo e una boccata d'ossigeno per il commercio. Quante ne abbiamo avute l'anno scorso? L'anno scorso ne abbiamo avute circa una ventina, quest'anno speriamo di incrementare, implementare e portarle a un 15-20% superiore a quello che era il 2013 e quindi un successo per la città dei fiori. Nel 2015 so che già state pensando ad un arrivo di una nave importante a livello proprio numerico di passeggeri. Sì, Ugo Trumpi sta lavorando per far sì che arrivi la Thompson, che è una nave da crociera con capacità superiore a 2.000 turisti. Sarà una prova per noi. Sono convinto che riusciremo a ottenere degli ottimi risultati. La logistica sarà difficile, ma sono convinto che con l'impegno di tutti gli utenti, di tutti i soggetti che si impegnano quotidianamente per il rilancio turistico della città, riusciremo a portare avanti anche questo. Parlando di Porto e di Mare, so che sta pensando ad un progetto legato alle persone disabili. Sì, diciamo che è nato sotto input del comando del Porto, perché bisogna sempre comunque dire come stanno le cose, quindi un ringraziamento alla comandante Dagnieri. Con Alessandra Mammino stiamo lavorando affinché si trovi una location per i disabili, in modo tale che possano vivere il mare e possano avere tutti i benefici che questo bellissimo Mar Ligure, e può dare a queste persone meno fortunate di noi. Quindi progetti tipo uscire in barca o immersioni, cose del genere. Diciamo barca a vele, immersione, e tutto quello che può far fare il mare nelle stagioni estive. Di Mare e di Porto di Sanremo parleremo in particolare domani sera alle ore 21 nella nuova puntata di A tutto Ponente. Grazie. Grazie.